buongiorno non è sempre facile comprendere il linguaggio di gesù capirne la profondità il racconto di giovanni oggi il capitolo 8 continua con i versetti dal 21 al 30 mostra come certamente i farisei non capiscono non riescono ad andare oltre una contraposizione con le parole della persona di gesù che a loro sembra essere fedele alla loro realtà ma invece li mantiene in una dimensione profondamente materialista i giudei che si credono uomini religiosi difensori della legge ricevuta da mosè in realtà ragionano con una logica estremamente individualista e fanno riferimento ai propri interessi dimenticando completamente la prospettiva di dio in fondo è proprio questo quello che di gesù loro e forse anche noi facciamo fatica a comprendere gesù è veramente dio gesù è veramente il figlio del padre egli che definisce se stesso come colui che è di lassù come colui che viene dall'alto egli che dice di sé che io sono cioè si attribuisce il nome di dio parla con una logica divina che è quella del dono quella della relazione ed amore quella della consegna per il bene dell'altro i giudei non si lasciano tirare fuori dal proprio egoismo e questa è la logica mondana e questa la logica che allontana da dio e ritornano sempre arricciandosi nei propri ragionamenti a chiedere ancora tu chi sei quante volte abbiamo chiesto anche noi a gesù chi egli sia senza essere veramente disponibili ad ascoltare la risposta quante volte ci rivolgiamo a dio domandandogli la sua volontà ma in realtà siamo sordi a una parola che magari ci chiede di cambiare quante volte pensiamo che in fondo il signore dovrebbe rivelarsi a noi ma non siamo disposti ad approfondire quella conversione che la conoscenza del padre ci chiede e ci propone per la salvezza nostra se non c'è salvezza si muore nel peccato e questo ciò che gesù dice ai giudei i quali se non si lasciano aprire alla logica dell'alto la logica di gesù figlio di dio la logica dell'amore destineranno se stessi alla condanna che il peccato comporta per coloro che non si aprono all'altro possiamo credere anche noi in gesù e superare questo egoismo se lasciamo da parte la logica mondana del materialismo dell'individualismo e riconosciamo che qui in questa vita già possiamo gustare il dono di uno spirito che viene dal cielo con il signore risorto anche noi siamo figli del padre buona giornata